cari amici di di pomeriggio siamo qui con don paolo proprio all'interno del chiostro degli zoccolanti in questa ambientazione che questo quest'anno ci ricorda proprio la magia la magia del natale tutti gli ambienti sono stati addobbati e decorati con delle luci e con degli ambienti che richiamano proprio la magia del natale e don paolo ha diciamo è qui e ci parliamo un attimo don paolo di quello che è l'attività della parrocchia proprio in questi giorni perché c'è un presepe che sta così proprio aglietando gli spettatori dei piccoli attori buonasera innanzitutto a tutti i telespettatori il presepe vuole essere un incarnare la nascita di gesù cristo in questo luogo e in questo anno in questo tempo in cui viviamo non è soltanto la rievocazione di un fatto passato ma la reincarnazione attuale nel tempo corrente noi ci teniamo a rappresentare il presepe a montorio perché è qui che vogliamo che si sperimenti e che si viva la nascita di gesù cristo questo figlio dell'uomo come viene chiamato nel vangelo che viene a rinnovare l'uomo dal di dentro partendo dal cuore e noi vogliamo con il presepe far rivivere a tutta la comunità ecco questo evento facendo entrare i visitatori all'interno di questa magia del presepe come disse san francesco 800 anni fa di cui proprio quest'anno si celebra l'ottavo centenario voglio rendermi conto di persona di quanto ha sofferto nostro signore per farsi uomo e venire in mezzo a noi questo presepe viene reso vivo reso attuale proprio dai piccoli protagonisti quindi i ragazzi della parrocchia sperimentano proprio la vita sono gli attori principali sia i ragazzi i bambini anche ma anche gli adulti quindi un po' tutta la comunità che partecipa di un grande impegno un grande impegno da parte delle catechiste soprattutto è un presepe che dove è tutto recitato quindi i personaggi parlano dal vivo davanti al pubblico che immagino le tante ore di prove anche all'interno della parrocchia abbiamo le scene bibliche quelle che conosciamo che vengono rappresentate appunto dai personaggi che danno il corpo e anche la voce all'angelo alla madonna san giuseppe erode i vari personaggi abbiamo anche tante altre scene di vita quotidiana e di mestieri artigianali alcuni perduti altri ancora in atto dove i vari attori raccontano degli episodi in dialetto di quei personaggi che sono stati qui di montorio alcuni viventi altri di scomparsi ma che ancora sia memoria tra l'altro siamo in un luogo che in qualche modo è proprio un museo un museo una raccolta racconta l'arte e le tradizioni di questo posto vediamo proprio proprio siamo circondati in questo momento proprio dalla possiamo dire che siamo dentro un presepe esatto siamo proprio dentro un presepe quindi tra l'altro ecco appunto il chiostro degli zoccolanti custodisce anche un po' la storia di questo borgo montorio al vomano che ha una tradizione importante artigianale e non solo se anche il presepe artistico ideato e realizzato da gavioli che tanti in passato l'abbiamo visitato ogni anno e quindi ancora viene tramandata questa memoria quindi per chi viene a montorio può visitare anche questo presepe artistico molto importante quindi diciamo che siete molto impegnati al periodo natalizio chiaramente è un periodo caldo per la parrocchia preparare il presepe diventa anche un modo per evangelizzare per annunciare far imparare anche il vangelo a memoria ai ai vari personaggi che lo rappresenteranno poi il nostro presepe a differenza di tanti altri anche più belli forse ma il nostro è un po' unico perché è tutto recitato quindi il visitatore non guarda soltanto ma ascolta partecipa dal vivo ecco la rappresentazione della scena dalla voce naturale dell'attore che rappresenta è un momento molto importante di condivisione immagino tra l'altro c'è un'altra particolarità cioè che nelle varie postazioni si recita in maniera continuata quindi lo spettatore si può muovere da una postazione all'altra e troverà sempre il diciamo la scena vivente ecco quindi si può arrivare in un orario ma anche in un altro in un altro perché le scene vengono ripetute in modo conseguenziale una dopo l'altra quindi non c'è bisogno di arrivare per forza all'orario di apertura noi saremo aperti dalle cinque di pomeriggio fino alle otto questo per quale periodo tutto il periodo il primo di gennaio dal primo di gennaio fino primo gennaio primo gennaio tutto il giorno dalle cinque dalle diciassette dalle diciassette diciassette venti dalle diciassette del pomeriggio fino alle venti di sera il primo gennaio quindi si potrà venire a montorio a vivere a vivere vivere la magia del natale del presepe rappresentato dal vivo sì benissimo quindi insomma un evento da non perdere il primo gennaio quindi l'inizio del nuovo anno lo iniziamo insieme al a gesù in questo presepe così particolare unico direi tutto recitato tra l'altro in dialetto anche quindi un legame col territorio un legame con la fede e un legame con gli spettatori che verranno a vederlo e don paolo in questa comunità una comunità montorriese io adesso proprio in chiusura di questa chiacchierata che abbiamo fatto però le chiedo un augurio per la sua comunità di fedeli e un auspicio l'augurio è sicuramente per vivere la pace la nascita di gesù è colui che porta la pace nel cuore di ogni uomo e noi la auguriamo a tutte le nazioni soprattutto quelle che sono in conflitti in atto quindi in medio oriente in ucraina e in altre 50 parti del mondo dove i conflitti sono accesi e l'augurio che appunto la guerra le varie guerre possano cessare ma perché cessino le guerre necessario che chi le decide chi le vuole ecco ascolti il messaggio del vangelo dove si parla di perdono di pace di convivenza pacifica tra le varie culture le varie razze le varie religioni altrimenti è impossibile vivere nella pace e cristo è che viene a portare questo messaggio e noi ci teniamo a farlo interiorizzare mi permetto di citare san giovanni paolo ii nel suo discorso ai giovani radunati a roma per il giubileo 2000 quando disse nel secolo che si chiude altri vi riunivano per incitarvi a fare la guerra tra di voi io voglio sfidare la storia e vi raduno da tutte le parti del mondo per incitarvi a vivere nella pace quindi credo che sia un augurio da rilanciare rimbalzare è proprio qui dove viviamo anche con varie etnie è bello vivere questa esperienza del presepe perché nonostante le varie correnti o le varie posizioni posizioni di pensiero noi ogni giorno quando scriviamo la data scriviamo il numero 2023 dobbiamo pur dire che cos'è questo numero la nascita di gesù di nazareth e quindi dobbiamo anche questo un modo per unire i vari popoli che qui convivono accettando le proprie tradizioni nel rispetto del ciascuno delle proprie beh direi che questa questo pensiero pensiero di pace un pensiero di convivenza nell'accettazione no dell'altro e anche un altro augurio possiamo aggiungere soprattutto per montorio che è ferita dal terremoto perché ecco la nascita di di cristo possa segnare anche la rinascita del paese tanto è stato fatto è stata avviata con la ricostruzione quindi l'augurio che possa continuare e presto a riaprire le case e fare ritornare le famiglie che sono dovute uscire per il sisma don paolo siamo giunti alla fine di questa interessante chiacchierata e io la voglio ringraziare per queste parole importanti poi proprio che provenivano dal cuore si proprio si si percepisce questo e le condivido con chiaramente con tutti i nostri telespettatori un augurio quindi di pace e per montorio che effettivamente oggi vediamo con tante no tante impalcature piena di case in ricostruzione ma ci auguriamo che tutta questa ricostruzione porti nuova linfa perché le case che verranno poi aggiustate riaperte riconsegnate ai proprietari no ridaranno anche uno slancio a questo borgo augurio anche che possano ripartire le attività commerciali che riporteranno ecco anche le famiglie anche altre persone per lo shopping e quindi si possa rivedere montorio la piazza le vie ecco riaffollate come un tempo sì sì e allora con questo bell'augurio grazie don paolo di don paolo appunto io ridò la linea allo studio e grazie don paolo e buon natale per questo opportunità per questo servizio buon natale a tutti i spettatori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.